Qua dentro, là fai il sasso a scendere, qua, e stendi e allargati dopo, sasso, ma scendi diretto di là, qua, attento che ti sbilanci un po', su dritto e scendi, va, 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 ho fatto bene, ma cos'è che c'è terza sarà, sarà in terza, minimo in terza, vai Johnny, sarà in terza,